Benvenuti ragazzi in questo nuovo video. Oggi analizziamo quelli che sono i migliori attaccanti per ogni campionato e per attaccanti intendo tutti quei giocatori che già come ruolo primario o secondario hanno il ruolo attaccante quindi verranno esclusi da questa classifica tutti quei giocatori che magari partono come esterni e che poi in game vengono spostati come attaccanti, come ad esempio può essere un Neymar. Vi darò ovviamente anche le alternative a basso costo nel caso in cui non vi possiate permettere quelli che sono i top player anche perché alcuni hanno prezzi folli. Detto ciò non perdiamoci in chiacchiere e partiamo col video. Eccoci qua nella schermata gameplay e partiamo con la Bundesliga. Il primo che stiamo analizzando è Christopher Nkunku. L'anno scorso avrete visto quante versioni speciali ha ricevuto. Veniva utilizzato per lo più però come mezzala o come cdc. Quest'anno ha ricevuto un grandissimo upgrade giustamente. 88 di velociato, 88 di ribling, 81 di tiro, 83 di passaggio, 5 di massabilità e 3 di piede debole. In Bundesliga non ci sono tantissime alternative. Lui mi sembra assolutamente la migliore alto normale di workers. Può fare anche il CAC che secondo me è un ruolo ancora più adatto a quelli che sono le sue caratteristiche. Però come vedete il tiro c'è. Pecca un po' di potenza però gli è andata a piazzare magari un cacciatore. E riuscite bene o male a arginare questo problema. Per il resto si gira benissimo. Per me può fare anche la punta unica nonostante non abbia questo gran fisico. Nel caso però in cui abbiate più credito e vi piacciono le punte un po' più fisiche. Polar è sicuramente un numero 9 vero al contrario di Christopher Nkunku. 3 di massabilità quindi se skillate ahimè troverete sicuramente delle difficoltà. Vi sentirete un po' limitati però. 180 cm, alto normale di workers, piede destro, 4 di piede debole. Comunque poi ha anche grandi statistiche di tiro quindi il 4 spesso vi sembra anche un 5. 90 di accelerazione, 88 di velocità scatto, 92 di finalizzazione, 93 di potenza tiro, 88 di posizionamento. Insomma questo è un vero attaccante. Ovviamente il 76 di equilibrio in game si sente. È una sorta di CR7 però più basso. ha girato comunque 87 quindi riesce a girarsi. 98 di reattività pad alla mano. Vedrete che sarà appunto abbastanza reattivo. Il costo ripeto non è basso ma se siete per esempio skiller come me tra i due preferite sicuramente Christopher Nkunku. Nel caso in cui abbiate ancora meno crediti ovviamente c'è il buon e caro Timo Werner che quest'anno ha ricevuto un ultra drop credit rispetto all'anno scorso che era il Chelsea 84 però la carta bene o male resta sempre la stessa. Il salito ha buggato molto veloce con i filtranti quest'anno. Non lo riprendete più quando parte a campo aperto. 90 di velocità, 80 di tiro, 78 di finalizzazione. In realtà a me in game è sembrata più alta. Io l'ho utilizzato per parecchie partite. Mi ha fatto 91 gol in 40 partite ma in realtà 20 gol almeno toglieteli perché erano obiettivi per le squad battles o le padronazze finalizzazioni dovevo fare 500 gol. Può giocare anche a S. Non vi ho messo la versione IF perché appunto la versione IF non ha come ruolo primario AT però vi posso dire che in realtà anche l'equilibrio e l'agilità sembrano maggiori in game. Ripeto per una Bundesliga a basso costo secondo me lui è l'alternativa migliore tra tutte quelle disponibili che in realtà non sono nemmeno tantissime. Cambiamo campionato ora e passiamo alla Liga. Il migliore che ho selezionato è Daniuma o Danjuma adesso non so come si dice nella sua versione Moments uscita da poco. Il prezzo è abbastanza basso, 178 cm, alto normale, piede destro 4-4 quindi tanta tanta roba. Può fare anche l'esterno, tanti lo utilizzano esterno ma secondo me l'attaccante rende di più. In realtà quel 178 cm in game sembra molto più grosso perché comunque ha un body type abbastanza robusto poi c'ha pure il capello molto più cotonato rispetto a quello che vede in foto quindi in game sembra innanzitutto più alto e poi fisicamente è uno di quelli che può reggere un po' stile Lautaro che non è altissimo però riesce a resistere alle botte dei difensori. È veloce, questa velocità si sente, il tiro è veramente fantastico. Rai con 88 finalizzazione la sentite tutta, la potenza di tiro a volte sembra anche maggiore. L'agilità viene rispecchiata assolutamente in game, si gira abbastanza bene. Forse l'attaccante è più completo in liga anche perché l'alternativa erano Benzema e Lewandowski che sul next gen magari possono rendere se li rendete appunto lenti con la corsa non lenti nel senso che sono lenti, proprio lenti scritto in questo modo e ormai sapete è sulla bocca di tutti però continuo a preferire ancora giatori come Danjuma ma personalmente lo reputo superiore ad entrambi. Se però volete un'alternativa è uscito Correa, nuovo IF, è una gran carta. Lui però ve lo consiglio non tanto come punta unica ma come attacco a due. Secondo me rende più anche da CAC però questo ATT vi assicuro che fa i buchi. 171 cm, alto normale, 4-4 ma soprattutto guardate che stats ragazzi. C'è relazione, veloce a scatto alla grande. Poi 88 di posizionamento, 88 di finalizzazione, 85 di potenza tiro ma non solo perché poi 92 di agilità, 90 di equilibrio, 86 di reattività, 89 di controllo palo, 89 di dribbling clamoroso. Ci fermiamo qua perché poi sotto c'è quel 79 di freddezza che può far pensare che si possa cagare un po' troppi gol però io vi posso dire per il prezzo a cui sta che al momento è abbastanza basso lui se non vi volete fare Danjuma ci sta alla grande. Se non vi siete abbastanza eriti comunque in Liga ci sono anche Depay e Felix che se siete degli skiller sicuramente amerete molto più di questi due giocatori però ormai Felix è sotto i 10k e Depay mi sembra che con 15-20k ve lo portate a casa quindi prezzi ancora più bassi. Il Ligan ovviamente raga c'è il dominio assoluto, il dualismo più assoluto in realtà perché Ginola e Mbappé se la comandano e su questo ovviamente non si discute. Vanno anche molto in base ai gusti, Ginola è più un numero 9 perché è proprio fisicamente più grosso di Mbappé e lui è veramente un CR7 con 5-5. Ormai l'anno scorso utilizzato da tutti i pro player è l'euro più forte che c'è ora in circolazione. Con questo qui veramente potete giocare anche fino a dopo i Toti. È clamoroso ragazzi, non penso servano presentazioni da parte mia. C'è da conoscere tutti, il prezzo parla da sé perché sta sui 2 milioni al momento in cui sto parlando 1.800.000 se non erro. Ha davvero tutto però c'è anche chi non ci serva bene perché lo reputa troppo pesante e quindi in quel caso si va su Kylian Mbappé. Ovviamente Brandon Bussard del gioco ormai da un paio d'anni, alto-basso di Warcret, 5 mossa abilità, 4 di piede debole. 182 cm che in realtà a me raga non sembra 182 cm, io sapevo che Mbappé fosse più basso tipo 178 cm però la EA ha deciso di renderlo più alto, può fare la punta unica, può fare l'esterno, può fare qualunque ruolo a Mbappé. Lui è veramente veloce, veloce, veloce. Ti dà quella sensazione di velocità in game che quest'anno non ti danno tutti comunque perché avete visto che è molto difficile andarsene magari a campo aperto solo in velocità senza fare skill o senza fare 1-2. E poi ragazzi, 93 di finalizzazione, la finalizzazione di Mbappé non era mai stata il suo forte ma quest'anno vi posso assicurare che segna in ogni modo da qualunque posizione. L'equilibrio 81 ma in realtà in game nemmeno ve ne accorgerete, il prezzo è più basso rispetto a Ginola se non mi sbaglio è stato su 1.3 milioni, però ecco insomma 3-2 va molto in base ai custi oltre che in base al budget. Io personalmente preferisco giocatori come Ginola, un po' più fisici, però sapete che io utilizzo anche Fernando Torres quindi Ginola non può che darmi una mano e venire incontro ai miei gusti. Mbappé ragazzi è un bappé, un bappé sicuramente devastante, se riuscite a prenderli entrambi si è stato a posto ma dovete avere veramente un budget molto molto alto. Per i poveri come me invece c'è il buon Bayheader che come ogni anno è una carta buggata. Quest'anno in realtà ha avuto un piccolo downgrade rispetto agli scorsi anni, soprattutto alla velocità ma vi assicuro che io però non scambiabile l'ho utilizzato. 33 partite e 20 gol direi che non è male, comunque in area di rigore si gira in maniera molto agile. 4 massabilità, 5 di piede debole, alto e basso di Worker, si trova sempre nella posizione giusta. 87 di finalizzazione con 84 di potenza tiro, posizionamento infatti 89. Vi assicuro che lui ha tanta roba, non so perché abbia motore, in realtà su Bayheader va cacciatore. Su questo non si discute però vedete anche il dribbling è molto alto, quindi lui se lo mettete lì in area di rigore nel momento in cui prendete palla vi potete girare quante volte volete in area, se arrivate al tiro segna sempre. Passiamo ora alla Premier League, altro campione in cui c'è un dualismo in base ai gusti, se in Ligue 1 c'è uno giugno là e Mbappé, in Premier League ci sono Haaland e CR7. Haaland sappiamo tutti che quest'anno su Next Gen è probabilmente forse il giocatore più forte insieme a Mbappé, sono competenti diversi, però il suo stile di corsa lo rende infermabile insieme al fisico, al body type che ha perché comunque i difensori non lo spostano. In più, quando tira segna sempre, perché ha un tiro clamoroso, basta vedere le statistiche, il problema è 3-3 e il 195 cm perché 3 mosse abilità, 195 cm, il body type che ha significa che non potete dribblare. Se fate qualche doppio passo e prendete lo sprint boost ci può anche stare, oltre le finte tiro, però poi il resto non potete fare altro. Quindi se siete giocatori che preferiscono skillare, CR7 è la scelta che fa per voi, anche lui con lo stile di corsa lengthy, vi assicuro su Next Gen, per me è più forte di Haaland, poi ovviamente sono gusti, le solite movenze alla CR7 lo rendono buggato, quindi per quanto riguarda il tiro, le punizioni, i rigori, i colpi di testa, lo stile di corsa, i passaggi, qualunque cosa, sapete? È il stato CR7, con l'81 di velocità, quest'anno in realtà non sembra nemmeno quell'81, su Next Gen, su Old Gen, ovviamente il discorso cambia, ma lo stesso discorso vale anche per Haaland, però su Old Gen non rende tanto quanto su PS5, Xbox, Series S o X. Se avete pochi crediti, c'è Odio Gojota, che 4 mosse abilità, 5 di piede debole, attaccante singolo, non ve lo consiglio, 178 cm, ma in realtà sembra molto molto più basso, in game, è davvero piccolo, l'accelerazione si sente tutta, a campo aperto lo recuperano facilmente, però in realtà di rigore è un bel header, e poi eventualmente c'è il sempre verde Rashford, perché se siete amanti di gioteri come CR7 o siete skiller, a pochi crediti Rashford è sicuramente la scelta migliore. C'è anche la versione post, trovate la recensione sempre qui sul profilo, sul mio canale. Andiamo finalmente alla nostra amata Serie A, il migliore è ovviamente Totò di Natale, l'anno scorso, e abbiamo la fortuna di trovarlo addirittura in questo periodo circa, nei premi Rials, da un pacchetto da... un mega pacchetto raro mi sembra. Clamoroso, lui veramente forte, da attaccante singolo ovviamente fatica, perché non riesce a reggere da solo il peso dell'attacco e a contrastare i difensori, perché è molto piccolo fisicamente, però raga, lui ha un tiro clamoroso, è veloce, ovviamente sul lungo lo recuperano quasi sempre, perché comunque è il passo breve, non ha quella falcata lunga. Serie di corsa dovrebbe essere infatti explosive, però è agilissimo, da CAC, ripeto, rende meglio, ma in un attacco a due, lui fa veramente i buchi, il prezzo ovviamente è quello che è, ma se è quello del miglior attaccante di Serie A, è sicuramente lui. Ieri però è uscito, nel team of the week, anche Murray e l'IF, che già nella sua versione base era molto molto forte. Questo IF in realtà non costa assolutamente nulla, perché sta sotto... sta sui 30k all'incirca. 4-4, è veloce, alto normale, 179 cm, è molto robusto in game, quindi lui punta singola, la può fare senza problemi, finalizza senza problemi, si gira perché è molto agile, vedete? Agilità, equilibrio e reattività sono comunque ottime statistiche, poi addirittura 90 di ribbing, 84 di freddezza. Lui forse è l'attaccante più comprato di Serie A, cioè anche più comprato di Di Natale, perché appunto è anche fisico, poi Di Natale è ovvio che in tutte le statistiche è superiore, ma non vi credete, lui come rapporto guida-prezzo probabilmente è anche meglio. Se però non avete credito, andate sulla versione base di Muriel, che vi assicuro rende altrettanto bene. Questo è stato solo il primo episodio di questa serie, faremo piano piano tutti i ruoli, fatemi sapere ovviamente nei commenti chi è il vostro attaccante preferito, di chi sta utilizzando ora, oppure a chi vorreste puntare. A tutto ciò ragazzi, io vi saluto, mi raccomando, lasciate un bel like per supportare il canale, iscrivetevi e attivate la campagna per non perdervi nessun contenuto, e noi ci vediamo al prossimo video. Bella!